il notiziario di franco fracassi in collaborazione con becciolini network www.becciolininetwork.com canale telegram becciolini network salve a tutti benvenuti la rassegna stampa quotidiana realizzata da me e dalla mia collega Paola Ventimela Testa oggi è il 5 dicembre e parleremo di twitter e poi parleremo della produzione di armamenti e le fabbriche di armi e infine della nigeria scusate per la tosse allora iniziamo con la prima notizia ultimamente si è molto parlato nel del computer del figlio del presidente degli Stati Uniti con Hunter Biden il New York Post che è uno dei giornali più antichi e prestigiosi degli Stati Uniti che è stato il giornale che ha fatto gli scoop raccontando di questo computer è uscito con nuovi articoli allora intanto facciamo una premessa di che si tratta si tratta del fatto che il Hunter Biden aveva portato a riparare il proprio computer in un negozio del Rhode Island dove dove vive e questo computer è stato lasciato abbandonato lì dopo un po di tempo il negoziante si è rivolto all'epia dicendo guardate qui c'è un computer prima di farlo ha copiato l'hard disk l'FBI ha studiato solta l'hard disk essendo il computer del figlio del presidente insomma andava fatto e ha scoperto all'interno di questo computer una quantità impressionante di email e di documenti che tracciano un profilo da grande corruttore e corrotto del figlio di Biden come se fosse l'uomo della corruzione del padre in realtà perché il figlio di Biden è apparso come l'uomo ogni volta raccomandato dal padre messo ovunque dal padre proprio perché lui potesse diventare il personaggio che incassava l'atto corruttivo per poter poi avvantaggiare il padre e potergli fare fare tutti i loschi affari che ha fatto fino adesso allora questa questa volta il new york post ha raccontato un'altra storia una storia che riguarda twitter recentemente twitter è stato acquistato dal miliardario elon musk quello delle quello di tesla tanto per capirsi le auto elettriche e dopo che l'ha acquistato ha licenziato sostanzialmente l'intera dirigenza di twitter e diciamo ha iniziato a gestire personalmente il social network nel andare a spulciare nelle vicende di twitter negli ultimi anni ha scoperto che twitter per anni non è stato altro che un luogo dove i potenti di turno potevano chiedere favori favori per per far sì che alcuni tweet venissero cancellati favori per impedire a alcune persone di fare dei tweet ma non erano cose che diciamo di rilevanza penale perché altrimenti sarebbero sarebbero delle denunce erano semplicemente impedire la diffusione di alcune informazioni di alcune notizie perché social network se non lo sapete sono uno strumento per il controllo dell'informazione non per la diffusione dell'informazione ma per il suo controllo allora a quanto pare twitter ha insabbiato e ha coperto in tutti i modi ha impedito l'uscita addirittura e ha limitato qualsiasi tipo di tweet che riguardasse proprio la vicenda del computer di hunter biden e quindi che diciamo una storia che poteva mettere in imbarazzo quello che allora era il candidato alla presidenza degli stati uniti che ovviamente non sarebbe mai stato eletto se tutto fosse stato reso pubblico come invece non è stato anzi è stato accusato trump di essere corrotto non biden e poi ne ha protetto cioè ha protetto la presidenza insomma c'è biden non avrebbe potuto fare quello che ha fatto le sue politiche portate avanti se fosse risultato essere così corrotto in pratica il diciamo il mask avrebbe scoperto come sostiene il new york post dice twitter ha adottato misure straordinarie per sopprimere la storia rimuovendo collegamenti e pubblicando avvisi sulla loro possibile non sicurezza ne ha persino bloccato la trasmissione tramite messaggio diretto uno strumento fino a riservato a casi estremi come la pornografia infantile sostanza pubblicare una storia vera ma in visa al candidato alla presidenza democratico come raggio biden era paragonato da twitter alla pornografia infantile scrive sempre il giornalista un certo taibi del new york post le richieste di eliminare determinati tweet erano routine celebrità sconosciuti allo stesso modo potevano essere rimossi per volere di un partito politico entrambe le parti avevano accesso a questi strumenti ad esempio nel 2020 sono state accolte in orate le richieste sia dalla casa bianca di trump che della campagna di biden però spiega il giornalista questo sistema non era bilanciato in quanto basato sui contatti e poche twitter era ed è composto in modo schiacciante a persone con un determinato orientamento politico ovvero democratico c'erano più canali più modi per lamentarsi aperti sia a sinistra democratici che a destra quindi twitter è arrivato addirittura tra il 2020 e 2021 a bloccare l'account del presidente trump perché lui aveva contestato i risultati elettorali e anche questo non si poteva fare in tutto ciò in tutto ciò invece di diciamo inorridire per quello che è stato twitter e diciamo cercare di evitare che possa accadere una cosa del genere ovvero mistificare l'informazione cancellare il la libertà di insomma eliminare la libertà di stampa e così via cosa fa l'unione europea l'unione europea l'unione europea ha lanciato un monito a elon musk minacciandolo ovvero ha minacciato di bloccare il social network se le nuove spolisi previste dal nuovo management infrangeranno le regole sulla moderazione dei contenuti l'ha dichiarato il commissario europeo thierry breton in altre parole nonostante twitter abbia chiesto uno stress test per verificare che tutto quanto è tutto quanto tutto quanto sta nelle regole l'unione europea ha detto che twitter deve controllare i contenuti che pubblica cioè deve fare da guardiano esattamente come ha fatto fino adesso esattamente come fanno facebook e instagram e se non lo farà potrebbe subire un divieto a livello europeo o multe fino al 6 per cento il fatturato globale in pratica o si comporta da diciamo giornalaccio depistatore che si autocensura diciamo come la peggiore informazione al mondo oppure l'unione europea lo cancella cioè siamo veramente a questi livelli l'unione europea cioè non è una cosa privata è la cosa pubblica che invita twitter a comportarsi come si è comportato prima ovvero a limitare la libertà di stampa in favore di che cosa e di chi boh notizia numero due esiste una agenzia europea un'agenzia scusate svedese che si chiama cipri che si occupa di traffico d'armi ovvero monitora tutto il traffico di armi legale e illegale nel mondo e stile rapporti fa classifiche e così via allora risulta dall'ultimo rapporto del cipri che il fatturato complessivo del delle vendite di armi nel mondo nel 2021 è stato di 592 miliardi di dollari c'è stato un incremento nel 2021 non c'era ancora la guerra in ucraina nonostante questo già c'è un incremento immaginate quanto si possa essere incrementato dopo e in questo questa anche classifica che sta fatta le prime 100 industrie di armamenti è emerso che le principali industrie di armamenti sono statunitensi 40 delle prime 100 sono medini o 6 il cui 5 tra le prime 10 e le industrie statunitensi coprono il 51 per cento tutto il mercato delle armi nel mondo l'europa segue con 21 aziende è un fatturato globale di 123 miliardi bene di queste 21 aziende la prima tra quelle europee a produrre esportare armi e la leonardo che è italiana che ha avuto un incremento di oltre il 18 per cento nel solo 2021 con un fatturato di armi che riguarda che è pari a 13 miliardi e 900 milioni se pensate che nel 2022 quindi circa diciamo un miliardo e 200 milioni al mese se pensate che il nei soli primi mesi del 2022 il ricavo totale di 9 miliardi beh potete immaginare quanti soldi ha fatto leonardo in questo semestre scusate in questo anno l'altra industria italiana che compare dal primo cento la fincantiere che si piazza al 46esimo posto con 2 miliardi 980 milioni di euro la cosa bizzarra è che la leonardo è finanziata anche dal fondo europeo per la difesa che una cosa bizzarra ovvero l'unione europea finanzia l'industria di armi a quanto pare c'è una parte del bilancio dell'unione europea che riguarda la produzione di armi terza notizia riguarda la nigeria nigeria è un paese africano dove si parla inglese perché un ex colonia inglese ma è un paese africano formato da tantissime diverse etnie bene il ministro dell'educazione della nigeria adamu adamu ha dichiarato che diciamo da da molto presto in nigeria e sarà già avviata tuttanta la procedura dalle scuole elementari verrà tolto l'insegnamento dell'inglese questo non per rendere più ignoranti i propri concittadini ma perché i tantissimi dialetti e lingue nigeriane oltre 800 lingue diverse si parla in nigeria si stanno andando perduti perché perché la globalizzazione insomma così funziona e allora per preservare la propria cultura che se non andrebbe spazzata via il è stato varato questo piano di politica di lingua nazionale in cui l'inglese resta la lingua ufficiale del paese ma dove dalle dalle elementari viene viene insegnato alle elementari vengono insegnate tre lingue le lingue dominanti lo hausa lo yoruba e l'ikbo che rappresentano il 60 per cento della popolazione in realtà la lingua più diffusa si chiama inglese pigeon che è una sorta di miscuglio tra inglese e lingue locali però al di là di questo inglese pigeon che parlano tutti quanti il vari dialetti e varie lingue nigeriane sono quelle a cui il governo nigeriano ha pensato di dare insomma la priorità in questo momento per proteggere la propria popolazione e il proprio paese ucraina e di chiesa ortodossa l'ucraina è una nazione una popolazione che inna è a sta grande maggioranza ortodossa e dopodiché esiste anche una parte dell'ucraina che è cattolica quella diciamo della galizia orientale cioè dove vivono i polacchi la chiesa ortodossa si divide in due grandi filoni un filone legato alla chiesa bizantina cioè quella greca e un secondo legato alla chiesa russa vorrei ricordare che chiev è il più importante monastero di una volta l'impero russo poi dell'unità sovietica e poi comunque dell'ex diciamo di questo dell'area di influenza dell'ortodossia russa che sfornava e sforna preti ortodossi popi non solo per l'ucraina anche per la russia e la chiesa ortodossa è una chiesa differente dalle altre perché una chiesa tradizionalmente legata al potere di solito è una chiesa abbastanza condiscendente col potere lo è stata per esempio anche l'unione sovietica durante il regime nonostante il regime fosse ateo quindi teoricamente la chiesa doveva combattere il potere in realtà lo appoggiava un appoggiare il potere comunista quello sovietico e allora cosa è successo è successo che recentemente la chiesa ortodossa ucraina si è separata da quella russa si è separata per nessun motivo di tipo religioso perché la chiesa è esattamente la stessa non ha non è che hanno rituali differenti credono in cose differenti è esattamente la stessa cosa è come dire la chiesa cattolica del lazio si è separata la chiesa cattolica dell'umbria non c'è diciamo il cattolicesimo quello è non cambia assolutamente quindi non ha nessun motivo di tipo religioso il motivo per cui si è separata è perché il governo ucraino ha messo su un ha esercitato una pressione gigantesca gigantesca sulla chiesa per per obbligarla a separarsi perché come ben sapete gli ucraini non vogliono avere nulla a che fare con i russi la loro cultura figurarsi la religione anche se la religione è la stessa come la lingua come tante altre cose però insomma si devono distinguere chiesa ortodossa ucraina che si chiama uoc è il l'acronimo che che diciamo della della chiesa ortodossa ucraina allora ma tutto questo al governo al presidente zelensky e al governo non è stato sufficiente e tant'è che è arrivata il in parlamento alla vercona rada che un parlamento del monocamerale non c'è camera e senato è arrivato un un disegno di legge prodotto dal consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ovvero dal governo ucraino da zelensky che stabilirà l'impossibilità di attività in ucraina di organizzazioni religiose affiliati a centri di influenza nella federazione russa a costoro verranno confiscate le proprietà a proposito di libertà religiosa no allora cosa si intende per centri di influenza della federazione russa beh avere una qualsiasi tipo di legame con la russia ovvero la chiesa cattolica ortodossa essendo quella russofona ha miliardi di legami con la russia sono esattamente la stessa cosa e quindi cosa è successo è successo che recentemente ci sono state una serie di perquisizioni dentro monasteri e così via hanno per esempio scoperto che in questi in questi monasteri c'erano delle dei simboli delle delle icone dei pamflet che si riferivano la chiesa ortodossa alla chiesa ortodossa russa per esempio in uno di questi di questi perquisizioni hanno trovato dei ritratti del patriarca kirill e dei documenti sul concetto di santa russia e ma che cosa si aspettavano di trovare nella soffitta una chiesa ortodossa ucraina cose differenti c'è era essere pensata la stessa chiesa è come appunto andare in una chiesa cattolica che si trova in umbria e trovare delle cose che non so dei santini del papa o delle cose che inneggiano a non so avrei a evangeli o magari una locandina che riguarda la un convegno tenuto da un vescovo x cioè la chiesa è quella allora il furore ideologico il furore ideologico negativo c'è quello devastante di costoro è così forte da voler annullare addirittura le peculiarità stesse di una religione nel corso dell'unione sovietica la regione ortodossa non era stata vietata non era stata vietata oggi la stessa regione viene vietata in ucraina tant'è vero che vengono sequestrate confiscate le proprietà viene evitata perché perché a questo guaio di essere una regione che è legata alla russia perché ricordo per l'ennesima volta ucraina e russia sono sostanzialmente lo stesso paese la popolazione è la stessa sfido chiunque a distinguere un russo da un ucraino anche per come parlano ciao a tutti ciao